A me mi è piaciuta questa esperienza perché abbiamo visto tutte le cose che non conoscevamo, però adesso le sappiamo. Poi per esempio noi abbiamo fatto diventare lo scoiattolo in gallo e allora siamo rimasti tutti un po', come devo dire, un po' perplessi di questa cosa. Ma è una perplessità bella o brutta? Bella.